Subito però dare la parola a tutti gli altri che sono dall'altra parte della sala perché questo è un dibattito pubblico, un dibattito aperto prima dell'apertura del secondo blocco quindi ecco già vedo una mano alzata Sono veramente stupito dall'affluenza che c'è stato su questo convegno la mafia pontina noi possiamo dire che la mentalità pontina è prettamente e prevalentemente di tipo mafioso semplicemente per le nostre origini che sono delle origini abbastanza particolari in sintesi la ponifica è stata realizzata da un'opera nazionale combattenti che aveva stipulato un contratto assicurativo con i 5 milioni di soldati della prima guerra mondiale e doveva risarcire i parenti delle vittime quindi l'opera nazionale combattenti compra la palude, la ponifica e poi fa venire i parenti delle vittime della prima guerra mondiale e viene stipulato un rapporto di mezzatria come tutti quanti sapete vent'anni di mezzatria e poi il mezzato poteva comprare il potere sta di fatto che il fascismo si è inserito in questo rapporto di mezzatria e ha raccomandato ai mezzatri di rupare all'opera nazionale combattente il 50% questo è avvenuto i mezzatri sono stati protetti dallo Stato ovvero dai carabinieri, dai poliziotti e dai magistrati soprattutto se rupavano all'opera nazionale combattente l'Ittoria è stata fondata dall'opera nazionale combattente quel giorno nella prima pietra di l'Ittoria il luce non c'era perché il fascismo non ha fondato l'Ittoria quindi questa matrice originaria è la nostra caratteristica di popolo prettamente mafioso con una mentalità mafiosa cosa posso segnalare? posso segnalare che l'autorità giudiziaria di Latina è carente basti pensare al partito delle mogli dei magistrati il partito della moglie del procuratore aggiunto e la moglie del 5 di Latina erano candidati consigliere comunale e senatore chi faceva la campagna elettorale alle mogli dei magistrati di Gennaro? la faceva la campagna elettorale alle agenzie di assicurazione la domanda è molto semplice parliamo di Latina, parliamo della mafia pontina oggi si è parlato del generico, del pubblico, delle favole il Movimento 5 Stelle si propone come alternativa e quindi come tale deve introdurre nuove modalità di rapporto fra cittadina e potere qui a Latina non c'è una cultura, non c'è un dibattito ma c'è una mentalità e questa mentalità è quella delle radici opportunista e predatoria cosa era la campagna elettorale delle mogli dei magistrati? era l'assicurazione degli avvocati cercavano delle persone che portavano i conti gli facevano fare un contratto di assicurativo per infortuni domestici ecco, è molto semplice, un infortunio domestico no, la domanda è questa che ne pensate voi della mafia pontina? che ne pensate voi? no, dove è il dibattito sulla mafia pontina? io non lo vedo, grazie allora, rispondo prima io e forse lo dovevo dire prima che il primo blocco è dedicato alla visione generale della mafia perché prima di parlare della mafia pontina dobbiamo prima capire un attimo cosa è la mafia per questo c'è stato l'intervento soprattutto di Elvio di Cesare tutto il secondo blocco invece è dedicato alle questioni locali e quindi pontina quindi penso che questo già basti come risposta poi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa lo farà successivamente c'è un'altra domanda allora, io sono 40 anni che faccio il favore del tuo giornalista e sono in vittoria vi ringrazio perché è la prima volta che si parla di mafia pontina poi facendo questo mestiere negli anni ho denunciato ho avuto grossi problemi e ho dovuto fermare che ho amminaggiato mia moglie e i miei figli continuiamo, andiamo avanti, grazie grazie ancora con un altro prima di ridere ecco qua sì, volevo chiedere a Elvio di Cesare ma come può succedere ancora che si uccidono giornalisti perché io quando c'era il piani di piombo ero ragazzino e lì abbiamo assistito ad uno stato che comunque promulgava leggi faceva commissioni faceva, organizzava comunque la difesa dei cittadini come si può ancora oggi assistere a questo e vedere che c'è quasi nulla intorno prima nessuno l'ha difeso questo giornalista e adesso pure dai giornali non si riesce a capire nulla grazie guardate, la ricorsa è semplicissima oggi la mafia non ha più bisogno di uno perché tanto il comando governa, fa le leggi ha conquistato tutto strada per tutto nei comuni, nei consigli comunali al governo nelle istituzioni, nei partiti dove si conta dove si fanno le leggi dove si comandano infatti c'è stato anche un cambiamento nel modo soterale non è più di norma non guardiamo gli episodi di criminalità comune perché bisogna fare una differenza ma il livello della criminalità comune e il livello, diciamo, della criminalità mafiosa noi diamo una lettura sulle modalità adesso nella vicenda di Colino ma stando a guardare, diciamo, a come è stato eseguito sono modalità mafiose, chiaramente, no? il giorno, l'albagia, la sicumera il posto centrale qua, dritto in fronte, qua queste sono le modalità delle esecuzioni ordinate dalla mafia adesso bisogna capire bene ammesso che ci sia la volontà perché si parla di un messaggio indiretto diretto ad altra persona ad altro soggetto bisogna capire bene speriamo che forse dell'ordine l'anichestatura di Cassino grazie a Dio ci ha dimesso la DTA di Roma ma anche quella che è colostina eccetera arrivino a capire però tenete presente che fin da qui non si fanno quattro non è che vengono gli investigatori della via da Roma o da altre parti sono affidati alla squadra mobile quindi mi auguro mi auguro che si capisci la mafia oggi non spara di norma perché non ha bisogno di parlare certamente se uno provoca aggressivi fastidi e chi vi parla riceve coerele nemmeno quelle penali quelle civiche di sartitoria richieste di danni mica arrivano ci dobbiamo stare sempre a difendere perché oggi c'è stato un cambio di metodologia da parte della diciamo della criminalità mafiosa uccide proprio quando uno continuamente imbrocca proprio focalizza situazioni particolari facendo saltare grandi interessi grandi colpi in quel caso vi borre a queste cose però di norma non c'è quella diciamo quella ecco quella metodologia tradizionale adesso diciamo a capire bene sono analisi che vanno approfondite noi stiamo seguendo alcuni filoni perché ripeto noi quando cerchiamo un modo di fare antimafia non con le cacchiere con le parole oppure viva falcone noi siamo i cavadori i zappadori quelli e poi chiaramente 30 minuti o no anch'io da con un 30 minuti al cielo forse grazie grazie